bello a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video della serie di minecraft pocket edition questo è l'episodio 2 allora ragazzi qui volevo fare una miniera qui c'è casa come potete vedere sono andato un po avanti ho trovato sì ho trovato la pezzi e ho trovato anche una pozione della strega ho raccolto un po di cibo e un po di carbone possiamo incominciare a scavare o cerchiamo da morire mangiamoci un bel bollo fortuna che non ho incominciato a camminare già c'è pietra rossa non c'è la prossima stagione o invece che non mi andiamo a scopo allora adesso dovremo incontrare a cercare dove notare che scopo diamanti dato che ora qui ci mi ha perso di là io ho già continuato a scopo diamanti ma almeno nelle lecce non è una lecce ah vedete è sempre qualcosa ma non dovrebbe essere un pozzo giusto due due migli abrucci ok cerchiamo qualcosa altra pietra rossi ma non interessa il ferro ci sta oh ma qui continua ok ci prendiamo il ferro ok e poi ci è finito il piccone ma per fortuna indovinate no mi sono dimenticato è giusto ovviamente ora la prendo giusto no già mi posso fare un bello orologio questo e ci facciamo altri due bei picconi ovviamente questo ora lo togliamo oh giusto ok ok ora continuiamo a cercare anzi a vedere fino a dove arriva questa pozza non cercare vabbè per ora voglio tutti una grotta ooooooh i primi diamanti trovate sono due nota due nota almeno almeno tre oh si va bene quanto stile fanni vediamo se sotto c'è la lava no ma che non c'è uno due tre e quattro che va per questa serie cioè per le soluzioni scrivetemi me lo qui sotto nei commenti io vi saluto ciao 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 ciao